Bentornati cari amici ascoltatori per un altro dei nostri approfondimenti nel campo medico oggi vi parliamo di odontoiatria in particolare di un tema molto molto interessante ma prima vi voglio ricordare il nostro hashtag interviste e storie mi raccomando cercatelo sul web sui social mettete un bel like alle nostre pagine condividete tutte le nostre storie perché sono davvero molto molto utili ed interessanti come detto andiamo a parlare di odontoiatria lo facciamo con una specialista diamo il benvenuto alla dottoressa ambra morlupi ben trovata ciao grazie ambra di essere qui con noi allora odontoiatra presso l'area dentale dottori morlupo e coppa allora ambra ci racconti un po quello che è stato il tuo percorso professionale allora ciao a tutti io mi sono laureata nel 2009 mi sono sempre occupata di chirurgia implantologia fin dall'inizio e ho partecipato vari corsi di formazione e anche ottenuto dei corsi di formazione ho lavorato inizialmente come consulente presso diversi studi e poi adesso a novembre del 2020 ho aperto la struttura insieme al mio socio il dottor coppa e quindi è uno studio che si occupa di tutte le principali branche dell'odontoiatria ma soprattutto il nostro focus principale quello dell'implantologia dell'implantologia anche a carico immediato di cui tra poco ne parleremo senti ambra uno da uno studio odontoiatrico ci si aspettano tanti servizi a partire dal dall'igiene dalla pulizia dalle nozioni base ecco oggi come oggi l'italiano ci tiene in modo particolare alla sua bocca è informato nel modo corretto che tipo di clienti ti arrivano studio allora diciamo che la prevenzione purtroppo è sempre un po troppo poca si potrebbe sicuramente cercare di implementare tutti gli aspetti proprio di prevenzione che andrebbero a risparmiare molti dei problemi che a volte portano appunto a interventi di implantologia anche radicale con l'estrazione di elementi dentari ormai recuperabili il posizionamento di impianti per riabilitazioni totali quindi sarebbe importante seguire i pazienti già fin da bambini ed è quello che cerchiamo di fare anche presso il nostro studio per quanto riguarda i miei pazienti io ho pazienti soprattutto che arrivano con passaparola quindi pazienti amici di amici che insomma ci portano spesso i ragazzi e li seguiamo fin da fin da bambini e quando poi saranno adulti. Ecco questo seguire i ragazzi fin da bambini aiuta un odontoiatra poi anche nel percorso di cura durante la crescita durante il percorso di crescita e di necessità che magari si presentano di volta in volta? Assolutamente diventa anche proprio un discorso di istruzione al considerare la figura del dentista non qualcosa di cui a cui far ricorso solo quando se ne ha bisogno ma un qualcosa una sorta di consulente della propria salute dentale anche perché poi i pazienti ci raccontano un po di tutto no a 360 gradi la loro vita diventate anche un po confidenti e poi un altro aspetto che ho notato negli ultimi anni nel vostro settore è quello che il dentista ha cambiato un po l'immagine nel senso che prima veniva visto come quella figura cattiva che ti strappava i denti che ti faceva male il trapano queste leggende metropolitane no di cui soprattutto i bambini avevano una gran paura ma oggi invece è cambiato tutto perché il dentista viene un po visto come il il chirurgo estetico no come quella persona che ti aiuta a ritrovare il sorriso ed oggi come oggi avere un bel sorriso è un biglietto da visita non indifferente hai riscontrato questo cambiamento anche nel rapporto con i tuoi pazienti allora diciamo che io comunque chiaramente sono abbastanza giovane nella categoria e diciamo mi inquadro già in un periodo in cui l'anestesia l'anziolisi eccetera hanno preso abbastanza il sopravvento quindi alcuni racconti che io ho insomma da miei dentisti precedenti colleghi io non li ho neanche vissuti noi facciamo interventi di implantologia anche con l'ausilio dell'anziolisi della sedazione cosciente quindi i pazienti a volte hanno addirittura un bel ricordo del dell'intervento che hanno anche se può sembrare strano sì sì può sembrare strano però effettivamente hai ragione hai ragione perché effettivamente riescono poi soprattutto a fare interventi che gli permettono di risolvere totalmente una situazione per la quale prima ci sarebbero dovute magari dieci sedute assolutamente ovvio che non è possibile per tutti i tipi di interventi però insomma per la gran parte degli interventi adesso si può senti ambra parliamo un attimo del tuo focus quello dell'implantologia fino a un po di tempo fa dentiere a go go assolutamente oggi è tutto cambiato perché la tecnologia le nuove scoperte scientifiche e il vostro aggiornamento anche professionale permette alle persone come dicevamo prima di ritrovare il sorriso e di avere in bocca denti che fondamentalmente sono veri sono parte integrante del del proprio apparato orale non mi veniva la parola senti e in che modo sono cambiate per quanto ti riguarda i rapporti con i tuoi pazienti cosa proponi loro quali sono le problematiche che oggi riuscite a risolvere allora diciamo questo adesso è possibile è possibile grazie anche alle ai moderni materiali e quindi all'implantologia con impianti in titanio che è un materiale biocompatibile al 100% che quindi non crea reazioni avverse reazioni allergiche quello che i pazienti a volte ci chiedono come il rigetto che tanto preoccupa e che poi in realtà insomma l'implantologia realmente non esiste ma ora non entro tanto nel tecnico però l'utilizzo di questi materiali coniugato con l'impiego di protocolli specifici permettono di avere dei risultati predecibili nell'implantologia quindi il paziente che viene che ormai si vede condannato alla dentiera o che ormai si vergogna di sorridere a volte veramente con un accurato studio del caso e un intervento che è possibile fare spesso in giornata dalla mattina alla sera consente insomma di riposizionare gli impianti e di ridare il sorriso a pazienti che fino a pochi anni fa sarebbero stati condannati a una dentiera. Chiaramente questi nuovi impianti che vengono innestati fondamentalmente non hanno effetti collaterali? In realtà no, poi è normale che gli impianti io lo dico sempre come i denti naturali possono ammalarsi cioè se il paziente non fa un cambio anche di quelle che sono le sue abitudini quotidiane quindi abitudini igieniche, abitudini ad esempio di fumo eccetera eccetera anche gli impianti poi nel tempo possono avere dei problemi, è normale questo. Ecco e a proposito di questo ti chiedo, una volta fatto l'impianto il lavoro è terminato oppure comunque necessitano di una certa manutenzione? Assolutamente il lavoro non è terminato perché come per tutte le cose anche di quello di cui parlavamo prima è un percorso di cura quindi il paziente che fa implantologia è un paziente che poi avrà come dire degli appuntamenti per un tagliando passami in termine quindi un controllo periodico che ci consentirà in caso di andare a come dire a intercettare quelli che possono essere problemi nello stato iniziale per poterli risolvere senza magari dover ricorrere poi all'estrazione dell'impianto stesso perché solo se li intercettiamo precocemente possiamo risolvere. E allora diamo quelli che sono i tuoi riferimenti cara Ambra, il numero di telefono di riferimento è il 340-240-3384, voi siete in Viale a Nicciogallo 91A a Roma, il sito web è aria-dentale.it su facebook aria-dentale, su instagram aria-dentale, poi c'è l'email di riferimento che è infochiocciola aria-dentale.it. Grazie ad Ambra Morlupi per essere stata nostra graditissima ospite. Grazie mille. E noi andiamo avanti con altre interviste, altre storie, non ci lasciate.